Bomber, oggi famo le fettuccine ai funghi porcini e ovulo. Un fungo semplice come noi, l'ovulo. Ingredienti, fungo porcino con tutta la terra e poi un fungo più modesto, l'ovulo, 70 euro al chilo. Menta, mentuccia, aglio e peperoncino rosso fresco fiammante. Pasta fresca impastata a mano. Prezzemolo fresco. Per suono è quello giusto. Accendiamo il fuoco, un filo d'olio. Se no i funghi si friggono. Mettiamo uno spicchio d'aglio. Mentre si sta imbiondendo, prendiamo il peperoncino fresco e lo tagliamo dentro. Lasciamo uscire gli aromi. Quando l'aglio è diventato biondo e con l'occhio azzurri buttatelo. Adesso buttiamo dentro i funghi. Sempre a fiamma bassa. Lasciamoli cuocere. Aggiungete poco prezzemolo. Dentro mettiamo la menta e la mentuccia. Ve sto a preparare un piatto. Guarda che il fungo non c'ha due ore di cottura. Che roba ho. Giuro che ve faccio smettere mia colà tutti. Che tanto veramente siete rimasti solo quattro carti a mia colà. Comunque, aggiustatelo del sale. Senti come canta sta natura. Sarta cavallo che l'erba cresce. Qualsiasi cosa che nasce dalla natura è felice di finire qua dentro. Regà, questo qua non è tutto olio eh. Il fungo ha cacciato l'acqua. Ecco perché ci va un filo d'olio. Salamo l'acqua. Porta sempre bene. Lo sai perché la pasta stavolta la faccio dentro la padella? Perché sotto al mio cuoco. Andiamo a buttare la pasta. Pasta fresca fatta con le mie manine. Poi farò a parte anche un video di come faccio sta pasta fresca. Io. Questo comunque è un quadro di pinta a mano. Io perché vorrei solo far sentire odore. Cioè guarda che fungo. so dure, so dure. Mamma mia. Ecco perché ci va un chilo di farina e dieci ova. Così vengono belle, dure e spessi. Guarda che roba. Guarda che roba. Aggiungiamo dentro i funghi un goccio d'acqua di cottura. e scoliamo sta pasta. Questa è l'apoteosi della pasta. Quando è cotta mettete menta e mentuccia all'ultimo perché sprigiona tutti i sapori. Bomber, da malimpiattamento. All'ultimo sopra un po' di prezzemolo fresco. Questa va mangiata in purezza. è una punta di diamante. Come me. E mo' una massaggio. Ma che vuoi che ho fatto? Mi commuovo da solo, mi commuovo. Top veramente. Oggi vi dirò una cosa nuova. So sempre il numero uno. Alla prossima ricetta Bomber. Alla prossima ricetta. Alla prossima ricetta. 還 Grazie a tutti.